Pubblicato sul sito del Comune di Petrasanta l'atteso bando per la concessione d'uso in affitto del ristorante La Terrazza ex Incanto a Tonfano. L'immobile di proprietà del Comune è stato oggetto di una serie di interventi migliorativi e conservativi. L'amministrazione cittadina punta a valorizzare la storia e la posizione panoramica di un immobile con vista mare e sul pontile di Tonfano che non è uguale sul litorale della Versilia. L'immobile ha una superficie di circa 666 metri quadrati di cui 456 circa coperti e 210 di terrazza esterna. Quindi una riqualificazione che si andrà a completare con tutto gli annonizzetti, piazza 24 Maggio e l'incanto, l'immobile dell'incanto. Quindi un bel passo avanti per tutta la frazione della Marina. Porterà sicuramente ottimi benefici a tutta la fascia della Marina e ripercussioni positive anche su tutto il resto del territorio. Quindi una valorizzazione ulteriore di spazi che erano bloccati da diversi anni. In queste settimane ci sono state numerose richieste di informazioni e questo potrebbe rappresentare un buon punto di partenza. La terrazza dell'ex Incanto sta cercando un progetto degno della sua storia e della sua vista unica. Il bando prevede la concessione d'uso per nove anni consecutivi. Canone annuo, base d'asta 60.000 euro, soggetto a rivalutazione Istat. Scadenza rate mensile. Gli interessati a partecipare alla gara di evidenza pubblica dovranno far pervenire una raccomandata con ricevuta di ritorno al protocollo generale del Comune di Pietrasanta entro le ore 12 del prossimo 16 febbraio. Bando e documentazione completa sono consultabili sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it